Intanto tutto inizia da qui, dalla copertina. E allora se partiamo con una piccola colonna sonora anche veramente più dinamica, anche perché i libri di narrativa sono belli, l'autore ci vorrebbe dire però invece, ecco, cominciamo qui. Quando Enrico Letta ha capito che qualcosa ha cominciato a dire, quasi quasi che propongo il bis, ma noi magica il Presidente del Consiglio Convertini che dice che il maggio lascio come il maggioreneria, le riforme un tanto a mille, eccome va, perché si ripara un gran culo, a mezzetto di senato, lascio il grasso o lo dò? La grande avventura della legge elettorale, a metra strada tra il porcellum e il tabum, cominciano gli ultimatum, tra cui l'ultimatum basquale. Ecco, Renato Brunello. Stai sereno, il nuovo libro di Simone Maldelli. Lo avete letto? Io no, è bellissimo. Una persona normale che è stato eletto dai cittadini, li rappresenta e che poi è amante della satira, ogni tanto fa delle vignette, delle imitazioni, anche per spiegare più facilmente la politica e per non prendersi troppo sul serio. Grazie. Grazie.